Ciao, io sono Greta. Ciao. Ciao, sono un tipo un po' strano, lo ammetto. Non penso a quello che hai fatto, agisco di getto. Che schifo avere vent'anni. Ah, sei un volontario. Mi piacciono i volontari, involontariato. Se vuoi diventare volontaria a Special Stage, dovrai superare cinque difficilissime prove. Ok? No! Non mi posso fermare. Non mi posso fermare. Non mi posso fermare. Involontario da quando sono nato. Giuro, non lo faccio apposta, ma non in senso lato.